Kylie Jenner in vista della nascita del suo primo figlio. Kylie Jenner ha dei momenti in cui è molto nervosa. La star del reality Keeping Up With The Kardashians ha eccitata l'idea di dare il benvenuto ad una bia bia insieme al compagno Travis Scott. Ma anche preoccupata per il parto. Una fonte ha raccontato a Entertainment Tonight. E' felicissima di stare per diventare madre. Ma ha avuto i suoi momenti di nervosismo. Kylie si presa una pausa dalle luci dei riflettori per prepararsi al suo nuovo ruolo di genitore. Recentemente è stato anche rivelato come Kylie si sia impegnata molto a preparare la sua casa ad accogliere il neonato. Una fonte aveva spiegato. La cameretta pronta. Lei una che fa le cose subito come sua madre Chris. Non avrebbe aspettato ancora prima di mettersi a lavoro. Qualsiasi cosa appuntita è stata portata via. E' molto felice della gravidanza ma non vuole renderla pubblica. Il fatto che non esca una sua scelta personale. Vuole tenere questo aspetto della sua vita il più privato possibile. Ha trascorso tutta la sua vita adolescenziale in tv ed famosa da oltre dieci anni. Se vuole tenere questa cosa solo. Dovrebbe averne la possibilità. Ha lavorato duro per poter fare quello che vuole. Altro su MSN. Kendall Jenner a destra. Il suo cucciolo. Di la Repubblica. Sponsorizzato. Quale Surface fa per te? Scopri le offerte più convenienti sul Microsoft Store ufficiale maggiore maggiore. Maggiore.